Allora, com'è la situazione per quanto riguarda il vostro organico per la stagione estiva? Allora, ridotto i minimi storici, in quanto erano previste otto assunzioni a tempo determinato e queste non sono, praticamente non ci sono state, hanno aderito soltanto una persona aderito mentre invece le altre state hanno rifiutato di venire a lavorare qui nel comune di Sanremo, nella polizia locale perché per tre mesi solamente hanno trovato offerte più allettanti da altre parti. Siamo rimasti, come ripeto, i minimi storici con un agente oltretutto non armato e quindi non può sopperire a quello che sono i servizi come l'ordine pubblico al mercato, servizio di terzo, quindi serale e altri tipi di servizi simili, quindi di abusivismo commerciale e quindi noi ci ritroviamo a essere spremuti sempre di più e siamo sempre di meno, ci troviamo a essere sei persone su ogni turno di lavoro. Il carico lavorativo durante l'estate, durante i periodi di festa aumenta nel comune di Sanremo perché è grande e non riusciamo quindi a sopperire a tutte le richieste che vengono richieste dai cittadini e quindi facciamo un servizio non completo. Per quale ragione siete in stato di agitazione? Perché le carenze di organico nella stagione estiva sono diventate insostenibili e nonostante il governo abbia sbloccato le assunzioni, soprattutto a quelle a tempo determinato che sono un grosso aiuto per l'organico di tutti i comuni della provincia, soprattutto nelle località turistiche come Sanremo vediamo comuni più piccoli dove sono stati assunti agenti come Ventimiglia che ha assunto 4 unità per 10 mesi Imperia che nonostante i tagli ne ha assunte 3 per 5 mesi, Valle Crosi addirittura con 8 persone in organico ne hanno assunti 2 per 5 mesi, mentre Sanremo siamo riusciti ad assumerne soltanto 1 per 3 mesi. Ora questa situazione è diventata insostenibile per cui noi chiederemo l'incontro al prefetto faremo uno stato di agitazione per cercare di risolvere questi problemi di organico. Grazie